Allora, vi è piaciuta la partenza? Vorreste sapere che questo concerto è un viaggio nel tempo. Sentirete canzoni scritte tra il 1992, 1993, 1994 e 1995. Però non vi preoccupate, fuori dal locale, però vedete una delorea che vi ricorderà nel 2024, lo garantisco. Però ci sono tre canzoni, tre canzoni che invece sono più recenti. Questa è la più recente di tutti, però parla di quegli anni, di quella storia e di quei tempi, e si chiama Riportando tutto a casa. In un soffio di volo e in una mani a pallone, col sudore, ho scritto anche il mio nome. In silenzio ci ho messo la mia vita e la mia voce, non è un caso, c'è il cappello è minore. Ho viaggiato furtore verso la corruzione, fatto sosta nei bar di quartiere, come un uomo o qualunque è un poeta e non c'è altro, come un piccolo e lì quae senza perdese, come un piccolo e lì quae senza perdese. E' ancora oggi, ciò la qua, posto di qua e in me io disco, per una festa in quale che sentita in cose, il liceo da qualche parte, da qualche San Francisco, da qualche parte, da qualche San Francisco. Sì! 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 Grazie a tutti.